Noi siamo al Bunker 44 I love Villanova, un bacione La Narda che è l'alimentari che abbiamo a Villanova l'unico in cui abbiamo anche lo sconto del 10% Sconto Bunker 44 Prodotto di prima qualità È stata anche intervistata se non mi sbaglio È chill, è relax c'è tutto, bene o male a parte che le persone sono sempre le stesse forse quello è l'unico problema Hai più tempo per scavare dentro di te essere unico e non omologarti agli altri secondo me Sono d'accordo i miei fratelli Non muoviamoci da qua Il sole calerà Sei pronto a superare il buio Ha sentito il cuore campagnolo L'abbiamo pagato 10k per commento chiede Un cuoricino C'ha scammato Non gliene avevamo chiesti due addirittura Però è Grande Giova Lo studio a Villanova è sempre aperto se vuole venire a trovarci Grande Giova Sì dai Un'oretta Due Stiamo diventando meta di pellegrinaggio È sempre campagna Secondo me si può trovare a casa Country punk Loretana per te ci ha detto che siamo belli e bravi Davvero Fred è un fra Ah che Fred Stava forte Giuliano è un fratello Un compagno di pelliccia Il numero uno Davvero Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo musica italiana